Ci siamo trovati di fronte a un luogo aperto con tutti questi canini sparsi, chi correva di qua, chi purtroppo si accoppiava, chi si mordeva, cuccioli nascosti sotto i bancali e quindi ci siamo trovati un attimo in una situazione, abbiamo dovuto un attimo raggruppare le idee e capire come agire. Decine di cani stipati all'interno di un'abitazione, una situazione spaventosa, quelle che si sono trovate di fronte le guardie OIPA che adesso hanno soccorso e salvato una cinquantina di cani tra cuccioli e animali di piccola taglia. È successo nelle campagne di Civitella in Valdichiana dove una donna viveva in casa con decine di animali. Le guardie zoofile della sezione OIPA di Arezzo sono intervenute a seguito di alcune segnalazioni. Ci siamo ritrovati in una situazione in casa di un privato di disagio. C'erano una cinquantina di cani, non in cattive condizioni di salute, ma purtroppo per la quantità, l'esubero di cani, tutti nello stesso ambiente, si era venuta a creare una situazione insostenibile. Alcuni decani hanno avuto bisogno di interventi. I volontari così hanno già pensato ad una raccolta fondi per far fronte alle spese veterinarie. C'erano animali, chi con otite parassitaria, chi con parassiti intestinali, chi purtroppo magari aveva delle fratture non curate, causa magari un po' di incuria. E quindi abbiamo provveduto a contattare tutti i nostri veterinari di fiducia. I canini sono adesso in cura e quindi se qualcuno volesse fare una donazione abbiamo bisogno di un po' di fondi. Gli amici a quattro zampe, dopo le cure necessarie, potranno essere adottati. Perché comunque sono canini che hanno veramente bisogno di un po' di tranquillità, di una casa e di tanto amore.